La palla canestro Cantù sarà impegnata da sabato nei play-off di Serie A2 Tavellone-Argento. La squadra di coach Meo Sacchetti sfiderà Pistoia, allenata dall'ex Nicola Brienza. La prima partita è in programma alle 20.30 al Paladesio. Una sfida sentitissima per la curva canturina alla luce del gemellaggio di lunga data tra Eagles Cantù e Onda d'Urto Montecatini. Nella stagione in corso gli uomini di coach Meo Sacchetti hanno affrontato i pistoiesi nella seconda fase del campionato. Un successo per parte nelle due partite. Abbiamo già affrontato Pistoia in partite sempre combattute, non c'è niente di scontato in una semifinale play-off, spiega coach Meo Sacchetti. Sarà una partita vera, Dario Ant ha iniziato a fare qualcosa con noi senza contatto, attendiamo i medici. Non è una sorpresa Logan, il suo ruolo e il suo modo di essere prevedono poche parole e molti fatti. Toglie tanta pressione agli altri giocatori. Abbiamo bisogno di controllare i loro punti di forza, abbiamo preso delle sberle e spero ci servano da lezione, aggiunge Sacchetti. A questo punto non si può pensare di sbagliare. Dove non arriviamo con le gambe dobbiamo arrivare con la testa. Hanno giocatori di alto livello e speriamo di contenerli. Dopo la sfida di sabato, gara 2 è in programma lunedì 29 alle 20.30 ad Esio. È ancora possibile acquistare i biglietti per una o entrambe le partite.